torniamo al nostro modello a tre stadi di apprendimento della lettura secondo il modello di Utafried avevamo parlato della tappa logografica della tappa fonologica e adesso arriviamo all'ultima tappa la tappa esperta la tappa ortografica si sviluppa intorno ai 7-8 anni e da questa fascia d'età in poi si automatizza la pratica della lettura ha una velocità e una facilità pari quasi a quella di un adulto questa tappa ortografica è un momento in cui nel cervello del lettore del giovane lettore si crea un repertorio di unità visive che hanno dimensione variabile che sono state costruite per apprendimento statistico nelle fasi precedenti sulla frequenza d'uso e combinazione di ogni lettera e ogni sillaba che troviamo diciamo comunemente nelle parole che ci capita di osservare, leggere, ascoltare a questo punto l'abilità di lettura nella tappa ortografica non dipende più dal numero di sillabe o la complessità dei grafemi perché si attiva una via che si chiama via lessicale della lettura che sostituisce la decodifica diciamo grafema, fonema quindi la lettura per lettere singole e per sillabe singole a questo punto il bambino può tornare a una dimensione di parola intera così come era all'inizio la tappa logografica, vi ricordate? solo che invece di vedere questa parola come un oggetto e quindi senza leggerla ma vedendone solo diciamo la forma grafica come avveniva nella tappa logografica adesso il bambino riesce a leggere la parola ma la legge tutta insieme non ha bisogno di passare dalla decodifica grafema e fonema a breve vi spiegherò come sostanzialmente in questo momento si può rilevare un fenomeno che si chiama effetto dei vicini quindi se c'è una parola nuova per esempio mallo che compare tra parole note invece tipo ballo o fallo che sono simili a mallo anche se hanno significati completamente diversi la lettura del bambino rallenta perché c'è un'interferenza nel magazzino lessicale cioè è come se emergessero nella sua testa parole che non lo aiutano in realtà a livello di significato a leggere mallo noi ricordiamo quando abbiamo parlato in precedenti video dell'effetto prime nella lettura che se vediamo una croce del dottore e poi dobbiamo leggere la parola dottore siamo più veloci a leggere la parola dottore ma siamo più veloci anche se la parola da leggere fosse farmacia o fosse medicina o fosse camice quindi parole che non sono simili da un punto di vista fonoarticolatorio ma sono correlate tra loro per significato perché? perché il nostro magazzino lessicale che contiene sono proprio reti neurali che contengono tutte le parole che noi conosciamo con il loro significato ci aiuta nella lettura nel momento in cui devo leggere una parola nuova questo magazzino lessicale non c'è ma nel momento in cui invece ci sono dei vicini a quella parola che sono correlati a livello fonoarticolatorio come ballo e fallo lo sono per mallo allora ognuno di queste parole ballo e fallo attiverà nel mio magazzino lessicale parole correlate e tutto questo manderà in confusione il target cioè la parola mallo quindi è come se si preattivassero delle parole che non sono utili per leggere mallo questo effetto si manifesta solo quando il bambino raggiunge la tappa ortografica ovviamente è un effetto che non è che vede l'insegnante la maestra mentre il bambino legge la maestra accoglie solo il fatto che il bambino deve leggere mallo che è una parola nuova e si confonde la realtà è che in sede sperimentale questo gioco diciamo di utilizzare parole diciamo fonologicamente correlate e quindi metterle vicine per creare questo effetto vicini è un modo per studiare i meccanismi diciamo di pensiero e di analisi del simbolo grafico della lettura quindi sono diciamo modelli sperimentali che spiegano come funziona il cervello ma diciamo a livello didattico quello che noi dobbiamo immaginare è semplicemente che queste parole vicine possono creare un po' di difficoltà al nostro allievo ovviamente nel nostro caso non saranno parole ma saranno cellule ritmico-melodiche se io ho una cellula do 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 e poi ho una cellula do 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 e poi di nuovo do do è un po' come avere l'effetto vicini cioè queste cellule molto simili tutte vicine possono essere confondenti come fare? allontanarle ecco che vengono in aiuto le lavagnette cioè le distanziamo nello spazio e le studiamo diciamo sentendo bene la differenza tra una e l'altra ma anche dando all'occhio uno spazio tra una e l'altra tale che non si crei questa interferenza allora cerchiamo di capire un po' meglio che cosa intendo per via lessicale per magazzino lessicale dobbiamo parlare di un modello noi abbiamo parlato del modello diciamo di apprendimento di lettura a tre stadi questo riguarda l'apprendimento della lettura adesso invece parliamo di un modello che serve per leggere ci serve per leggere quindi un modello proprio cognitivo di lettura del cervello già esperto ci sono sostanzialmente due vie neurali che il cervello può percorrere e percorre entrambe nel momento in cui legge delle parole la via lessicale e la via fonologica la via lessicale ventrale e la via fonologica dorsale la via lessicale permette l'accesso diretto al significato delle parole la via fonologica invece consente la conversione grafema fonema o rispettivamente fonema grafema facciamo degli esempi ci sono quattro parole che sono scritte sotto trafio chiesa glicine e musica ora trafio è una non parola cioè una parola che può sembrare una parola perché è conformata con una combinazione di consonanti e vocali in maniera da sembrare una parola però non lo è si chiamano pseudoparole o non parole per leggere trafio io non posso far altro che percorrere la via fonologica quindi guardo se non le singole lettere almeno le sillabe che riconosco tra l'ho letta un sacco di volte fio è qualcosa che conosco le metto insieme via fonologica e leggo trafio non ho alcun accesso al lessico perché non conosco nessuna parola che mi ricordi il significato di trafio per leggere chiesa invece io uso entrambe le vie perché leggo chiesa e il suono della parola mi richiama un significato chiesa quindi accedo al mio lessico dove chiesa è già depositato conosco il significato della parola chiesa della parola prete della parola crocefisso e tutta una serie di parole correlate però mi accorgo che è scritta nella maniera sbagliata e in quel momento in cui vedo quella k io sto usando anche la via fonologica la diciamo la via fonologica inizia la lettura ma poi comprendo il significato della parola e uso la via lessicale per leggere glicine io accedo al significato per decidere che non devo usare la conversione grafema fonema per leggere glicine che sarebbe errato quindi anche in questo caso utilizzo entrambe le vie ma prima uso la via lessicale e poi uso la via di conversione grafema fonema per diciamo inibire il i che mi verrebbe diciamo se io leggessi usando la via fonologica poi c'è musica beh per leggere musica io accedo principalmente alla via lessicale quindi vedo la parola intera l'ho già diciamo sentita metto insieme queste sillabe in maniera istantanea quindi senza più passare attraverso la conversione perché abbiamo detto ho raggiunto già la tappa ortografica quindi la mia lettura è esperta e non ho bisogno di leggere singole sillabe ne ho bisogno per glicine e per chiesa perché ci sono delle incongruenze quindi ho bisogno di accedere comunque un po' alla via fonologica oppure uso la via fonologica per leggere non parole parole nuove oppure per leggere parole in lingue che non conosco quindi la via fonologica viene piano piano abbandonata dal cervello esperto ma rimane diciamo utile in certi singoli casi torniamo a ballo ballo e fallo abbiamo do la falla do sol misol do la falla do sol misol e un po' l'effetto ballo ballo fallo cioè l'effetto dei vicini queste cellule sono molto simili tra loro e può essere confondente leggerle entrano un po' in collisione una con l'altra per il nostro sistema visivo anche un po' per il suono perché sono abbastanza simili e quindi potremmo cadere nell'effetto vicini ma se io abbino a queste diciamo questi gruppetti un'etichetta diciamo che identifica un certo significato raggruppandole per esempio se il mio allievo fosse capace a riconoscere dentro do la falla l'accordo di fa maggiore e do sol misol l'accordo di do maggiore è come se io utilizzassi la via lessicale e quindi questo mi porta ad avere un doppio rinforzo nella lettura perché io potrò accedere alla via lessicale e a quel punto leggere do la falla e leggere do sol misol diventano due cose molto diverse due tra virgolette parole con un significato lessicale diverse se poi il mio allievo fosse abituato a ragionare in termini di armonia potrei anche pensare che il mio allievo sappia che uno è diciamo una parola che ha a che fare con la preparazione alla tensione mentre l'altra che ha a che fare con il rilassamento tutte queste competenze sono a livello teorico abbastanza raffinate e può sembrare che solo ragazzini già molto avanti con gli studi dello strumento possano trovare giovamento nell'analisi armonica questo è vero semplicemente perché tutti gli allievi di solito che ci capita di come dire raccogliere nel loro cammino di apprendimento alla musica non hanno mai assolutamente pensato in termini armonici ma se fin da bambini i nostri ragazzini fossero abituati a associare alle note una funzione armonica magari anche in maniera molto giocosa io per esempio uso per definire le funzioni armoniche di tensione rilassamento e preparazione alla tensione quindi le cadenze ecco uso la partita di calcio tra alcuni giocatori e quindi quarto quinto e primo oppure secondo quinto e primo diventano tre diciamo notine re sol do fa sol do che prendiamo da una squadra che è una squadra di calcio e diventa un gioco di squadra quindi io dico attacco gol terzino il terzino faccio la cronaca intanto i bambini cercano sul pianoforte queste tre note e la combinazione tra esse a volte sono io a fare accompagnamenti in cui faccio la cronaca intanto il bambino improvvisa ma comincia ad avere l'idea che queste note non siano tanti pallini messi più o meno vicini tra loro sul pentagramma ma che siano tutte insieme parte di una parola che ha un significato quindi io costruisco piano piano la via lessicale del mio diciamo allievo e non solo la via fonologica questa slide torneremo su queste tecniche didattiche per esempio sull'armonia torneremo spesso quindi non sto a soffermarmi troppo in questo video questa è una visione globale delle aree corticali della lettura secondo diciamo quello che finora sappiamo di cervello proviamo a ragionarci un po' insieme ci sono tutte le parti gialle che sono l'accesso alla pronuncia e all'articolazione delle parole sono queste parti centrali vedete la regione sopramarginale le regioni temporali superiori le regioni precentrali poi c'è una via invece di accesso al significato che è quella verde frontali inferiori temporali anteriori il giro fusiforme ne abbiamo parlato le regioni mediotemporali il giro angolare quello che ci permette di ottenere le rappresentazioni lineari immaginari ne abbiamo parlato c'è poi il punto blu che è il punto principale dove arriva l'informazione e la primissima stazione d'arrivo delle informazioni visive quando leggo una parola dai miei occhi l'informazione visiva arriva in questo punto blu regioni occipitali le zone di entrata degli input visivi e poi diciamo questa immagine supponiamo che sia una lettera raggiunge la visual war form area viene analizzata la forma grafica della lettera e l'informazione parte per accedere sia alla via del significato che alla via dell'accesso alla pronuncia e all'articolazione il tutto con processi attentivi di controllo che sono quassù regioni parietali posteriori che fanno sì che io continui diciamo lo scorrere lo sguardo sul foglio e quindi abbia una lettura seriale